Soltà, non è bene, non ti taggia, guarda qua, è uno spettacolo, ecco, ma che? Ma dico io, una brava ragazza ti ama, ti vuole be... Ma non è un luco, una brava ragazza. Ti ama, ma perché ti devi comportare in un modo così contrario alla strada che avete deciso di percorrere insieme? Ma questo composto, ma prima di tutto, non parla, parla sottovoce. Vi dovete sposare. Ma da voi, ma perché vi dovete sposare? Sto dicendo che io non... Sali in macchina, sai cosa stai? Che dici? Ti sali in macchina, sai c'è cilio che guarda... E sai che in macchina, sai, ho paura di salire in macchina, io parlo, non so se le dico in faccia. No, io ero convinto che ti piacera, questo è il problema, non è chi mi deve vedere, colore. Guarda qua, senza tutto automatico, sai, è bellissimo, tutto automatico, tutto automatico. Mamma mia, la bottone e i bottoncini. Caro amico mio, bello, qua se ti sposi un vescovo, il merito è mio di Don Rinaldo. Lo sai? Lo so, va bene. E io non voglio fare brutte figure. Va bene. Avanti sentiamo, parla. Oh, 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 oh. Che è? Avanti sentiamo, parla. Ma che è? Che vuoi? Non ti piace il tono? No, non mi piace il tono. Allora lo cambiamo, avanti sentiamo, parla. Chi è questa Raula O'Laula? Chi è questa Raula O'Laula? L'ho detto, è la fidanzata di Roberto il Palicciare. Va bene? Ah, sì? Noi facciamo l'amore. Sì. Noi facciamo l'amore. Sì, va bene. Ma a un certo punto ho detto quelle cose che si dica quando uno sta in quel momento. Non ti dica a te. No. Stavamo là in quel momento così. E a me è uscito quelle cose che esce quando uno fa l'amore. E a quelle cose ho detto, eh, 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 eh. E chi è questa Elena? Quale Elena? Chi è questa Elena? Tu hai detto Elena adesso? Non ho detto Elena. Non ho detto Elena. Non ho detto Elena. Non ho detto Elena. Non ho detto. Pure lei. L'abbiamo litigato per questa cosa qua. Mi dice, chi è Elena? Perché è Elena? E' questo�ona, questo? E che ne so io chi è? Ah sì. Eh 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 eh. Lei non è un'altra cosa. E' un nome. E' un nome? E chi c'è allora no? C'è Raula. Non c'è, no! Perché ci ha detto adesso? Forse qualcuno. Ah no? E allora sai che cosa dice Santa Teresa di Terez? No, non meglio di sapere. Questa cosa dice Santa Teresa di Terez? No, non lo so. Non lo so. Non lo so. No, non lo so. Non ne lo so. Ti facciamo, vediamo. Grazie.